Ragazzi sto preparando uno scherzo a Viviana meraviglioso, mi sono caricata la sua immagine e il profilo sul mio whatsapp Lui mi ha nominata Vivi, Viviana e Banesis e abbiamo finto che lei abbia preso tempo fa accordi per una comunione il 12 luglio In realtà noi saremo ad Avella stasera in concerto e arriverà questa telefonata di uno che ci sta aspettando a Sorrento Viviana andrà nel panico, andrà nel panico Vedi che è questa Villa Lauro che mi sta squillando? Perché è Banesis Villa Lauro? Scusami Buongiorno Buongiorno, stasera abbiamo appuntamento a Milano a Sorrento, oggi ti serve altre informazioni per l'indirizzo per aiutarti a cercare la mia domanda Aspetta, stai chiamando? Pronto? Pronto? Signor Guido? Sì chi è? Ciao Viviana, Trebanesis Ciao Viviana, allora vi serve, magari vi mando il Google Map Andate meglio Il problema è che io e Serena di questo accordo lavorativo, non ne sappiamo niente Ma come signorina scusate, io poi come faccio? Ma state scherzando? Quanto l'abbiamo preso questo accordo e in che modalità? Allora vedete bene perché noi l'abbiamo, io sono il donno di Martina, io sono l'avvocato Guido Battibeli controllate per piacere perché noi l'abbiamo preso e l'appunto a me Alle 19, era alle 19, non le 20 e 40 e che perciò stiamo aspettando da un'ora, perciò stiamo aspettando da un'ora Ma che famiglia? Scusi ma devi venire in privati così Ma che cosa? Scusi ma ma io non ho preso proprio niente Mi pare di sì perché ti dino un messaggio a un muro mi sta scadendo e che li ho stanno a conto Oddio a me adesso potete andare con? Che cosa è? Ho fatto? Dove ha fatto più? E che cosa ha perso? E chi è Viviano Ibanese? Scusatemi non ho mandato questo messaggio a Viviana So poi mi pare da cuir Andreat want to come sapete? Eh sai i soldi ve li siete saputi prendere U appel le s », lo so lui Ma associazione un accordo Si vuole Scusi, mi puoi inviare anche quando abbiamo parlato, perché io non me lo ricordo. Io non ho tempo da perdere, almeno chiamo qualcuno di più serio, scusate. Se questa è la vostra serietà, allora voi, perché hanno faticato con Massimo Raniero, allora c'è abbastanza zitta e tutto è permesso. Eh, eh, belli fatte, facciamo due video su internet che andiamo a peggio. Avete controllato il testo, scusate, ma potete parlare con qualcuno di riferimento? Sì, allora guardi, può parlare con noi, a noi dispiace moltissimo, non siamo mortificate, però purtroppo siamo ad Avella, non abbiamo idea di come sia potuto accadere. Ad Avella? Ad Avella, abbiamo un concerto qua. Ma scusate, ha scritto un po' merdia, però. Stai facendo un video con un segretario? Io sto facendo un video. Stai facendo un scherzo. Sei su scherzi a Mario! Io l'ho detto, sei su scherzi a Mario. Ma chi è Mario? Mario Coppola! Stamma stammati!